e questo è un video assaggi, cosa assaggiamo oggi? assaggiamo i nuovi chupa chups peanut choco e poi assaggiamo questo suco stantando in essere mix alla frutta blu che non lo so mi ha ispirata e quindi volevo assaggiarlo iniziamo con i chupa chups tini choco. Allora, iniziamo a vedere, sono delle praline ricoperte Allora, questi chupa chups peanut choco sono molto 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 buoni, però avete presente gli M&M's? uguali, l'imitazione delle M&M's, quelli che si trovano alla Lidl, alle L&D, i sacchetti con le praline ricoperte, uguali, cioè si potevano chiamare tranquillamente M&M's, sono buoni eh, però un euro e cinquanta un sacchettino da 45 grammi e hanno il sapore degli M&M's, niente di sì, come come bontà gli do un set e mezzo, otto, perché sono molto molto buoni, forse anche un po' di più, però come novità gli do zero, cioè ma novità di che cosa? Io pensavo che dentro ci fosse tipo il chupa chupa chups, lo chiamiamo chupa chupa chupa, e invece è una nocciola attorno al cioccolato, quindi il classico M&M's, niente di innovativo, quindi come bontà molto molto buono, ma come novità proprio no. Allora vediamo al succo, metto in un bicchiere trasparente, così vi faccio vedere anche a voi il colore, il profumo è intenso. Allora, devo dire che il retro gusto che ti lascia dopo averlo bevuto è più buono del sapore del succo di frutta, non è cattivo, non ha un brutto sapore, però non è uno di quelle bevane di cui succhi di frutta, almeno per i miei gusti naturalmente, e dici buono, sapete quando assaggiate qualcosa che subito vi lascia l'ottima impressione del gusto. No, ha un... l'odore non è neanche brutto, l'odore è molto buono, però il sapore che si sente mentre lo bevi non rende giustizia al profumo. I don't say say più, sono anche buona forse, say più, dai, no dai, say più, la sufficienza si può bere, però non è non è niente di eclatante. Ecco, insomma, un po' una delusioncina, ecco. Poi della Santal pensavo fosse più buono. Ecco questo è il mio video assaggini di oggi, spero che vi sia piaciuto, di avervi tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere se anche voi avete provati e cosa ne avete pensato, e cosa ne pensate, come vi sono sembrati. Grazie a che avete sentito il video, se vi piaccio iscrivetevi, spoliciate, ero già avanti. Vi mando tanti tanti baciattissimi e al prossimo video. Ciao!